Siamo alla seconda parte e oggi parleremo del valore dei capelli nella storia. Allora, il valore dei capelli nella storia, io qui in questa puntata voglio raccontarvi tutte le credenze dell'uomo nell'ambito specifico dei capelli e quindi vi racconterò delle storie un po' antiche, anche come sono scritte, sono scritte come si percepiva il valore di un certo tipo dei capelli perché hanno talmente tante variabili che noi consapevoli di queste storie ci aiutano moltissimo a capire chi abbiamo davanti e come proporgli un qualche cosa. Chauffeur elettronico Roberto, una voce sintetica che ci aiuterà a capire questi segreti che spaziano dalla magia alla religione. Ascoltiamo Roberto. Da che mondo è mondo, sin dagli albori della civiltà i capelli sono sempre stati presi in grandissima considerazione dall'uomo e ancora di più dalla donna. Infatti nell'antico Egitto, ai tempi dei faraoni, nelle tombe di importanti dame di corte si trovavano spesso alfore contenenti olio di lino mischiato con olio di oliva ed alfore contenenti radice saponaria che venivano usate per la bellezza e l'igiene dei capelli mentre le donne del ceto sociale più modesto usavano la cenere di legna per lavarsi i capelli. Sappiamo che lavarsi i capelli in tutte le epoche è stato che chi è ricco si può permettere qualche cosa di più erbe saponarie che aiutano meglio a togliere la sporcizia, la sporcizia perché all'epoca era la sporcizia, non era l'igiene, non si conosceva ancora e quindi anche il ceto basso si adattava alla cenere che noi parrucchieri conosciamo la cenere non tanto voi giovani ma quelli anziani che ha un potere abrasivo e ci aiutava a togliere nei contorni del viso la tintura che creava dei problemi. Bene, vedo che sto rompendo un pochino il ghiaccio, spero di riuscire bene a raccontarvi questa storia perché questa fa parte della della mia storia perché quando ho iniziato a fare gli allungamenti di capelli queste cose qua non si conosceva. Come utilizzare questa tecnica antica per capire quello che andiamo a fare alla cliente di oggi perché le epoche cambiano ma i fenomeni rimangono sempre gli stessi e si chiama magia meopatica.